ITR, Pettoranello, colpi di scena in quantità illimitata questa mattina e di questa mattina la notizia è che Manganiello, Alberto Manganiello, quello che era stato definito il nuovo amministratore delegato della ITR non è più riconosciuto dalla proprietà. Bianchi ha detto ai sindacati Manganiello non rappresenta nessuno, l'amministratore delegato sono io, domani vi riceverò. Intanto questa mattina fuori da cancelli dell'ITR sono rimasti i sindacati con la stampa, gli operai, quei pochi operai che ancora lavorano sono entrati. Dipendenti pochi, sindacati tanti. Sindacati tanti ma questo non era un presidio, c'è una manifestazione spontanea di alcuni dipendenti che sono venuti qua in realtà perché volevamo un incontro col dottor Manganiello ma il dottor Bianchi ci ha precisato con una telefonata che l'unico amministratore delegato di ITR è lui e che lui ci riceverà domani mattina alle nove e mezza, quindi per oggi un nulla di fatto. Amico Antonelli una situazione comunque resta tesa ma soprattutto incerta? Ma resta incerta perché ognuno ogni tanto alimenta con delle esternazioni, sinceramente non sappiamo da quale fonte provengono, anche già lo stesso cosiddetto tavolo tecnico che è stato venerdì, le esternazioni dell'assessore Petraroia hanno un po' portato alla decisione spontanea, dico io, più che spontanea da parte dei lavoratori di chiederci di fare questo sit-in per chiedere un incontro a Manganiello. Adesso viene fuori come diceva Lino prima che Manganiello sarebbe praticamente un abusivo, non ha avuto la ratifica e quindi qui continuiamo con la telenovela e però la dovrebbero quasi smettere prima che ci arrabbiamo sul serio di dire fesserie che ci facciano capire. Di trocchio intanto però c'è qualche contestazione nei confronti dei sindacati, su Facebook tanti del personale, dicono questi sindacati non ci rappresentano. Che sta succedendo? Se siamo qui evidentemente è perché li vogliamo rappresentare. La realtà, come diceva il collega, è che c'è un rimpiattino, la Regione cerca di scaricare le responsabilità, secondo me, sui sindacati. Noi invece siamo qui e vogliamo fare il nostro lavoro, anzi facciamo un appello alla Regione affinché finiscano con le chiacchiere e si passi ai fatti concreti. Quindi Zambianchi, domani appuntamento con Bianchi, che cosa chiederete a Bianchi? Se c'è qualcosa da chiedere. Gli chiederemo se c'è un avanzamento su un eventuale piano industriale, che ad oggi non sappiamo neanche se esiste o no, e gli chiediamo se c'è un futuro per l'azienda. Ma soprattutto ci piacerebbe chiarire definitivamente, speriamo domani sia la volta buona, se e chi diventa proprietario di ETR e in quale percentuale dal primo novembre nel caso non venga pagata la rata, come ormai sembra certo.